andiamo ad effettuare il primo test per questa planetaria montando a neve due albumi d'uovo sono trascorsi 8 minuti e 31 andiamo a vedere il risultato che abbiamo ottenuto in questo lasso di tempo ecco il risultato che abbiamo ottenuto non possiamo dirci pienamente soddisfatti in quanto in 8 minuti gli albumi non sono risultati perfettamente montati si può vedere infatti che una parte risulta ancora liquida questo è probabilmente dovuto all'ampia capienza della ciotola andiamo adesso a testare la resistenza sotto sforzo di questa planetaria per questo test prepareremo circa 2 kg di impasto lievitato, l'impasto della focaccia stiamo quindi inserendo all'incirca 1,2 kg di farina un po' di più come potete vedere la stabilità del prodotto è molto elevata ecco l'impasto che abbiamo ottenuto si tratta di un impasto ben incordato e perfettamente amalgamato il quantitativo è molto abbondante possiamo quindi ritenerci particolarmente soddisfatti del risultato ecco l'impasto